C'è una gola profonda dietro alle indagini che hanno portato all'esecuzione dell'ordinanza cautelare del GIP di Locri e sua sanità, che ha coinvolto 90 persone e smantellato il reparto di psichiatria dell'ospedale di Locri. Il dato emerge in un'annotazione di servizio della Guardia di Finanza di Locri, depositata agli atti del procedimento coordinato dalla procura diretta dal dottor Giuseppe Casciaro. Si tratterebbe di una dottoressa in servizio al pronto soccorso consulente del Tribunale di Locri, che dopo essere rimasta coinvolta in un'indagine resalente a fine 2021, accusata di concussione nel corso di un interrogatorio reso davanti al pubblico ministero e agli investigatori delle Fiamme Gialle, ha riferito, fra l'altro, come sintetizzato nell'informativa che le era spesso capitato, in qualità di CTU, di prescrivere esami psichiatrici a soggetti che, a suo parere, non soffrivano comunque di particolari disturbi di salute mentale. Tuttavia, gli stessi, dopo essere stati sottoposti alla visita, esibivano certificate a firma del dottor Filippo Lascala, in servizio presso il reparto di psichiatria, nei quali venivano invece messi in evidenza seri problemi di salute mentale. Proprio a seguito di queste dichiarazioni, l'autorità giudiziaria ha disposto una specifica attività di capitazione di conversazioni telefoniche e telematiche nei confronti del dottor Lascala, di fatto poi confluite nel procedimento, sua sanità, che ha portato all'arresto del medico disposto dal GP su richiesta della Procura di Locri. Sin dalle prime intercettazioni telefoniche, evidenziano gli investigatori, si è avuto il netto sospetto di essere di fronte a un soggetto che, abusando della sua posizione di dottore in servizio presso un ospedale pubblico, nel tempo si è riuscito a creare un sistema di relazioni interpersonali esteso, che lo vede figura centrale e indispensabile per una vasta platea di soggetti. Nel proseguo dell'indagine si è passate anche a intercettare l'indagato, che tra l'altro ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GP di Locri, dove era presente con il difessore avvocato Luca Maio, anche tramite dispositivo telematico. Le successive intercettazioni telematiche rilevano i finanzieri, hanno confermato appieno i sospetti iniziali, disvelando ulteriori dettagli che consentono di affermare che il dottor La Scala, dietro compensi di denaro o altre utilità, nonché per tornaconto politico, rilascia certificazioni compiacenti a chiunque gli si presenti direttamente o per interposta personale. Ma non solo, proseguono gli inquirenti, in La Scala interviene anche presso colleghi dell'ospedale di Locri, al fine di fare rilasciare anche ad essi certificazioni compiacenti nelle quali vengono relazionati problemi di salute di gran lunga amplificati o addirittura inesistenti, a volte persone in favore di soggetti che neanche sono presenti alle visite mediche. In La Scala, aggiungono gli investigatori, si pone nei confronti dei colleghi ai quali chiede collaborazione ora in termini amichevoli, ora con atteggiamento sfontatamente o velatamente minaccioso, forte dei suoi rapporti con esponenti della criminalità organizzata, che non esita a ostentare per mettere in soggezione i propri interlocutori. Su queste ed altre considerazioni, la Guardia di Finanza ha svulto un'indagine coordinata dalla Procura di Locri, che ha coinvolto diverse decine di soggetti, tra i quali molti medici in servizio all'ospedale di Locri, alcuni avvocati e alcuni consulenti del Tribunale Civile Locrese.